Buonasera a tutti siamo con Gaitan Pietra squadra Allora la partita 11 a 13 dice che l'avete chiusa praticamente nel primo tempo poi gli avversari sono tornati un po' sotto hanno capito un po' quali erano le vostre trame forse un po' la stanchezza raccontami tu questa partita diciamo che è la classica partita di fine stagione dove ormai c'è poca posta in palio noi siamo scesi in campo per diciamo chiudere al meglio il campionato che ci ha visto vittime di tanti fortuni sicuramente con la squadra completa avremmo potuto puntare a posizionamento più alto però dai siamo contenti della chiese bellezza domenica partita allora in bocca al lupo per la prossima stagione ciao